è noto che con uno smartphone e buona volontà si possa realizzare una trasmissione in streaming ma conosci la differenza tra uno streaming e uno streaming seguito? la differenza è nella qualità video ma soprattutto nella qualità audio ti chiedo di comparare questi due filmati questo è stato realizzato con uno smartphone questo con il nostro sistema Verbum glorificate il Signore con la vostra vita andate in pace alleluia alleluia che ne dici? si nota la differenza? grazie, ciao, alla prossima!